Nuova giornata di Open Day al liceo scientifico Leonardo Di Grigento, qual è l'offerta formativa e le novità? Accogliamo ancora oggi pomeriggio tanti ragazzi e tante famiglie che hanno scelto di venire a toccare con mano il senso della comunità del liceo Leonardo, una comunità che si esprime attraverso la strada dell'innovazione, che punta alla formazione di menti brillanti che chiaramente devono andare a popolare il futuro del nostro paese. Tutto ciò passa attraverso metodologie didattiche innovative, ambienti di apprendimento assolutamente all'avanguardia, personale, docente, altamente qualificato e professionale, che dà a tutti i nostri ragazzi quegli strumenti necessari a formare un pensiero critico che li renda consapevoli delle scelte qualunque esse siano nel futuro. E' chiaramente un percorso nel quale noi attenzioniamo non soltanto la giusta e doverosa trasmissione dei contenuti, ma proprio perché siamo perfettamente consapevoli di avere un capitale umano con un'intelligenza assolutamente veloce, un capitale umano che già nasce tecnologicamente dotato, io ritengo, è proprio quel capitale umano che ci spinge ad investire anche attraverso delle modalità di insegnamento che puntano ad una formazione verso traguardi anche formativi che riguardano per esempio tutte le attività extracurriculari che noi portiamo avanti, attività extracurriculari che spaziano dal campo umanistico a quello scientifico, a quello artistico e che intanto puntano alla formazione di una coscienza civile nei nostri ragazzi anche attraverso la celebrazione di tutte quelle ricorrenze che nel nostro paese servono ad affrontare tematiche di un certo livello. Ovviamente mi riferisco innanzitutto alla questione della parità di genere sulla quale i nostri ragazzi sono particolarmente sensibilizzati, ma per esempio proprio per essere aderenti al nostro percorso formativo anche a tutte le opportunità di crescita sotto il profilo della cultura scientifica che noi diamo ai nostri ragazzi mettendoli nelle condizioni di incontrare personalità dell'ambito scientifico di elevato spessore con i quali loro dialogano, con i quali loro preparano lezioni, ai quali loro pongono delle domande, delle curiosità e che soprattutto da quest'anno ancora più con le ragazze possano anche abbattere quegli stereotipi di genere che proprio nel caso delle carriere scientifiche per le donne oggi sono una problematica davvero importante da affrontare.